La nostra città di Zagrova 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 Per aver creduto con una grandissima determinazione e anche una grandissima lungimiranza sull'idea complessa che un palazzo come questo potesse tornare alla vita grazie a un impegno collettivo. La lungimiranza dell'avere visto che attraverso il recupero di un bene dei cittadini, quale questo meraviglioso palazzo, si potesse offrire a questa vostra città una nuova opportunità di crescita collettiva e di sviluppo con il museo, la biblioteca, l'orchestra giovanile da camera, il confronto Petrassi e quindi attraverso la promozione della cultura si promuove un arricchimento di una comunità cilina con le inaugurazioni di oggi ancora con passi in avanti la presenza di un'importantissima e prestigiosa università internazionale come la Turo e gli universiti che renderà questa vostra Zagrova sempre più meta di ospiti provenienti da tutto il mondo. Noi ovviamente continueremo ad essere vicini, molto vicini a Palazzo Rospigliosi perché ci abbiamo creduto sin dall'inizio, continueremo a credereci e soprattutto, ripeto, reputiamo questa esperienza un tassello fondamentale di un'idea di sviluppo che punta sull'arte, la cultura, la socialità, lo stare insieme, l'importanza che il talento e la creatività possono dare per renderci tutti più ricchi e più richiedevo soprattutto. Grazie. Torno qui per inaugurare i lavori che sono in fase di conclusione, prima di entrare vorrò fare una passeggiata per vedere dall'esterno la parte maschio, la parte di qua tutta la strutturale è veramente uno spettacolo. E soprattutto una capacità anche di costruire l'integrazione tra i diversi segreti, penso alla biblioteca, al museo del giocato, al libro per i ragazzi, percorsi in cui si fa, non ci sono delle mostre bellissime, ma anche una capacità di appare e statare, lavorare nelle scuole, quindi un lavoro di rete, ovvero, che coinvolge i diversi soggetti che in questo territorio vivono e operano e fanno tutta la cultura. Io penso che questa sia la chiave dello sviluppo di queste gabarneari di Tocantitana, che ha grandissime potenzialità, che ancora troppo poco sono state, come dire, sviluppate, e da loro è davvero una buona pratica. Voi rappresentate oggi il massimo a cui comunità può aspirare, cioè essere sempre prima un'università prestigiosa. Coltivare i valori della scienza, della cultura, dell'arte, con tanti nuovi amici, che per l'arte del mondo per noi è un punto artissimo, a cui potremo sicuramente arrivare e speriamo che questa collaborazione sia sempre fructuosa di grandissimi risultati. Grazie. Finalmente, dopo qualche anno, siamo arrivati a un punto importante, quello dell'inaugurazione da una parte del palazzo e dall'altra anche il riconoscimento ufficiale, non soltanto da parte delle autorità americane, ma anche di quelle italiane, che è fondamentale. Avevamo potuto aprire l'università anche solo per il riconoscimento americano, abbiamo venuto però a sottolineare che senza il riconoscimento italiano non avremmo aperto. Sembra fondamentale questo elemento qua. Aprire l'università americana e italiana in uno stesso tempo. Questo è un unico, diciamo, in Italia e penso che sarà di grande vantaggio per gli studenti che verranno a studiare qua, perché potranno studiare in inglese e però gli studenti che verranno da fuori studieranno anche l'italiano. Noi speriamo che gli italiani, gli americani, di origine italiana, vengono qui a studiare l'italiano. Questo è uno dei nostri progetti. La giornata di oggi segue già una giornata importante, però indubbiamente per chi è di Zagaroso, per chi è affezionato a questa terra, parlare di Palazzo Rospigliosi è un po' parlare di noi stessi. Quindi la giornata di oggi è indubbiamente una giornata storica. Da qualche anno in questa parte siamo carenti di una vocazione anche economica. Allora, valorizzare questi spazi vuol dire anche, credo, rilanciare da un punto di vista economico queste zone. Buongiorno, sono il signor sindaco. Buongiorno, sono i nostri progetti. Buongiorno, sono i nostri progetti. Patauro Universi di Roma, istituendo nella nostra città, è un apporto di cultura, prima che assegnazione di titoli accademici professionali, operando in una convivenza interreligiosa, non solo come canonizzata dai dettami conciliari, ma anche come i pontifici, recenti l'hanno saputa corroborare con la loro presenza anche nella sinagoga dove sono stati subito. Grazie. 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 Grazie.